Buonasera cari amici di Telemolise, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la pagina politica perché c'è stata una riunione agitata oggi in Consiglio regionale in particolare sulla mozione presentata dal Movimento 5 Stelle inerente il famoso concorso per dirigenti. Andrea Di Lucente, Aida Romagnuolo e Filomena Calenda hanno infatti votato con le opposizioni e la maggioranza è andata sotto. Il presidente Tomasi è astenuto e ha letto in aula il documento redatto dal capo del terzo dipartimento che attribuisce ai dirigenti tutti i poteri di selezione del personale. In apertura Giovanni Minicozzi. Un concorso nato male e additato soprattutto sui social con violente accuse circa i futuri vincitori. In rete si è parlato di collaboratori esterni che attualmente esplicano incarichi dirigenziali predestinati all'assunzione a tempo indeterminato con la regione. In particolare sotto i riflettori è finito il concorso per assumere 10 dirigenti di cui 5 riservati agli esterni e 28 tra funzionari e impiegati. In Consiglio regionale è stata discusa e approvata una mozione a firma del Movimento 5 Stelle per annullare in autotutela i relativi bandi. Insieme alla minoranza PD e 5 Stelle hanno votato anche tre consiglieri di maggioranza e precisamente Filomena Calenta, Aida Romagnolo e Andrea Di Lucende il quale in precedenza aveva denunciato in aula odore di Brogli, stante le tante comunicazioni da lui ricevute contenenti i nominativi dei possibili vincitori. Secondo i rappresentanti del Movimento 5 Stelle i bandi sono viziati da diverse irregolarità a partire dalla mancata pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. Il dirigente del terzo dipartimento hanno spiegato i pentastellati ha parlato di procedure regolari e non si comprende perché dopo le denunce pubbliche e dopo la presa di posizione dei sindacati carte alla mano abbia dovuto predisporre una seconda determina per pubblicare l'avviso sulla gazzetta ufficiale e riaprire i termini di scadenza. I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle hanno poi elencato una serie di presunte ulteriori irregolarità sulla procedura di mobilità non conclusa, sul regolamento regionale che disciplina l'accesso alla qualifica dirigenziale e sulla valutazione aggiuntiva dei candidati ai fini della valutazione dei titoli non conforme alla normativa vigente. Sull'argomento il presidente della regione Donato Toma ha letto in aula una relazione del dirigente che ha predisposto gli atti spiegando che la materia di esclusiva natura tecnica non può essere valutata dagli organi politici né impugnata attraverso un atto di indirizzo che impegna lo stesso governatore ad annullare in autotutela gli atti. Se il dirigente, ha spiegato Toma, afferma che secondo la sua visione tutto è conforme alla norma, non posso che prenderne atto. Se poi c'è una lamentela di brogli, ha aggiunto a questo punto chi ritiene di fare gli opportuni passi li faccia. Chi pone in questo consiglio accuse relative al fatto che già si sanno i nomi di chi vincerà, si assume una responsabilità improprio che io non mi sento di assumere, ha poi spiegato Toma. Non voglio però privare il consiglio di una espressione di voto, ha concluso, per cui anticipo il mio voto di astensione sulla mozione. Ribadisco però i dubbi sul fatto che io possa fare un annullamento in autotutela di un bando dirigenziale. Se facessi una cosa del genere potrei sfociare in un abuso d'ufficio. Resta il fatto però che la maggioranza di centrodestra ancora una volta è stata sconfitta dalle minoranze e da se stessa. La deputata molisana di Italia Viva, Giusi Occhio Nero, è stata interrogata questo pomeriggio per diverse ore in procura a Palermo nell'ambito dell'inchiesta che ha coinvolto con l'accusa di associazione mafiosa il suo ex collaboratore parlamentare Antonello Nicosia, arrestato ieri. Occhio Nero, che è stata sentita come testimone, era accompagnata dall'avvocato Giovanni Bruno. Nicosia, secondo l'accusa, sarebbe entrato nelle carceri insieme alla Occhio Nero per incontrare i capi mafia detenuti e portare all'esterno i loro messaggi. Ho detto tutto quello che avevo da dire. È stato questo il commento a caldo della parlamentare molisana all'uscita del Palazzo di Giustizia di Palermo. Ora la cronaca perché questa notte c'è stata un'esplosione nel centro storico di Campobasso. Un potente urdigno è stato piazzato davanti all'ingresso di un negozio di abbigliamento. Danni non solo all'attività commerciale presa di mira ma anche alle abitazioni e agli altri negozi vicini. Tanta la paura tra i residenti. Sono in corso le indagini della squadra mobile. Ci dice tutto in questo servizio Enzo Luongo. Un'esplosione nel cuore della notte. Un'esplosione fortissima che ha svegliato tutto il quartiere. Mancavano pochi minuti alle tre quando un ordigno confezionato in maniera artigianale ma molto potente ha distrutto l'ingresso di questo negozio di abbigliamento di via Roma a Campobasso. Princess Boutique, un negozio aperto da appena due mesi. La bomba ha danneggiato anche altri negozi e abitazioni vicini. La ragazza che abita proprio sopra il luogo dell'esplosione racconta i minuti di paura. Verso le due e mezza tremeno un quarto. Io ho sentito proprio tremare il letto. Mi sono alzata e mi sono affacciata perché non sapevo cosa potesse essere successo e ho visto tutta la gente affacciata che guardava giù però io dal balcone non vedevo. Ho visto solo l'insegna della pizzeria in terra e poi mi hanno detto che praticamente avevano messo perché è intervenuta subito la polizia e i carabinieri e hanno detto che probabilmente era stata messa una bomba carta vicino al vetro del negozio. Parecchie persone hanno detto che hanno avuto i vetri rotti, delle case, dei balconi. Vedete questo è il luogo dell'esplosione. Danni ingenti, la ventrina è andata completamente distrutta ma insomma i danni non sono solo al negozio qui davanti. Guardate c'è l'insegna di questa pizzeria che è stata completamente distrutta e poi qui di fronte c'è questo negozio alla bottega del Baccalà che ha avuto danneggiata la vetrina che adesso non c'è più e è andata completamente in frantumi. Sono in corso le indagini della squadra mobile. Si procede per i reati di danneggiamento aggravato ed esplosione. Già sentiti i titolari del negozio e altri testimoni, la proprietaria dice di non aver mai subito minacce. No, no, lo so neanche io, sincero. Mai qualche sospetto? No. Chi ti ha avvisato? La polizia. E che hai pensato? Ti hanno mai chiesto qualcosa? Mai niente, mai, mai, mai. Da quanto tempo stai qui? Da settembre. Mai successo niente? Mai ricevuto minacce? Quindi non hai sospetti? No. Fin qui le sue parole in realtà però emerge che poco dopo l'apertura del negozio, nelle settimane scorse, sono stati trovati davanti all'ingresso un lumino e un proiettile. Una scelta non casuale dunque quella del negozio da prendere di mira. Su questi aspetti ora si concentrano le indagini per capire cosa possa nascondersi dietro l'esplosione. Fondamentali saranno eventuali video ripresi da telecamere installate nella zona, anche se come raccontano gli stessi residenti della strada, proprio pochi giorni fa una telecamera di sicurezza, che era a pochi metri di distanza, è stata smontata. Eh, disattivate, non ce ne stanno più. Quanto tempo fa? Eh, quando è una settimanella, una ventina di uomo. Proprio su questa strada? Tutta la zona. Vento forte in gran parte della regione, diversi gli interventi dei vigili del fuoco a Campobasso e nei paesi limitrofi per tegole, lamiere, impalcature pericolanti, diversi anche i danni. A Ferrazzano è caduta un'impalcatura al teatro dell'Oto, dove è in corso una ristrutturazione danneggiata. Anche un'auto, anche nella zona di Termoli, si sono segnalati diversi disagi e gli interventi sono stati diversi per alberi in strada. Cambiamo argomento. Dalla sera del primo novembre scorso non si hanno più notizie di Elzo Tornincasa, un uomo di 61 anni, di Montenero Valcocchiara, come si apprende da una nota della prefettura di Isernia, è scomparso presso l'ospedale Pentro, scomparsa segnalata subito al comando dei carabinieri di Rio Nero. È stato subito attivato il piano di ricerca, che coordinato dal comando provinciale dei carabinieri, vede coinvolti anche i vigili del fuoco, la polizia, la guardia di finanza e i forestali, supportati anche da volontari delle locali associazioni di protezione civile, dalla Penelope alla K9 di Pescara, con l'ausilio di cani molecolari specializzati per le ricerche delle persone scomparse. Le attività, dopo gli accertamenti, sono orientate nella zona di Castel di Sangro. Asrem e Regione trovino subito una soluzione per evitare la chiusura del reparto di medicina dell'ospedale di Agnone, e lo ha detto il consigliere regionale greco, che non esclude di rivolgersi alle autorità. Intanto anche i sindaci altomolisani tornano in campo per salvare il caracciolo. A breve dovrebbero incontrare i commissari, ma soprattutto puntano a portare a Roma un piano sanitario alternativo alla bozza che circola in questi giorni. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. La presenza del reparto di medicina al caracciolo di Agnone è prevista dal piano operativo sanitario, quindi la sua chiusura potrebbe profilarsi come interruzione di pubblico servizio. Per questo, se occorre, sono pronto a denunciare. Questo, in sintesi, il messaggio lanciato dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Andrea Greco, al termine di un incontro alla Asrem, chiesto proprio per avere chiarimenti sul futuro del reparto. Tra i problemi segnalati, la lentezza burocratica del leader del concorso pubblico per l'assunzione di due dirigenti medici da assegnare proprio all'ospedale agnonese. Un problema di non poco conto, fa notare il consigliere dei 5 Stelle, visto che a giorni il primario di Nucci andrà in ferie forzate prima del pensionamento, mentre al collega D'Agostino scadrà il contratto. Dobbiamo scongiurare la chiusura di medicina in tutti i modi, ha detto Greco, perché è inconcepibile che a pagare sia sempre la comunità. Il problema devono risolverlo Regione e Asrem. La sopravvivenza del reparto ha concluso in materia loro e non c'entra nulla con il commissariamento della sanità. Tra le ipotesi in campo, la proroga del contratto ad Agostino, l'invio di medici in comando da Esernia o ancora l'affidamento di incarichi libero-professionali. Intanto il primo cittadino di Agnone, Lorenzo Marcovecchio, dopo aver incontrato il prefetto di Esernia Cinzia Guercio, ha contattato i commissari chiedendo un incontro urgente con i sindaci altomolisani e dell'Alto Vastese per conoscere i contenuti della bozza del nuovo piano operativo. L'obiettivo è infatti quello di far preparare a due ex manager della sanità un piano alternativo che, a parità di costi, salvaguardi innanzitutto l'emergenza-urgenza. Subito dopo si andrà a Roma per sottoporla ai vertici del Ministero della Salute. Ma occorre fare in fretta. Il nuovo piano sanitario della Regione Molise potrebbe arrivare sul tavolo del Ministro ben prima della fine del mese. I veterinari precari contestano l'avviso pubblico della ASREM per reclutare personale che espleti controlli nelle stalle regionali. Il nostro appello è caduto nel vuoto. Hanno detto così si aggirano i vincoli normativi, si sono rivolti ai legali. Ce ne parla Tonino Danese. I veterinari precari hanno dato seguito a quanto annunciato nei giorni scorsi opponendosi alle decisioni assunte dall'azienda sanitaria regionale. L'ex dirigenza, prima del commissariamento, ha pubblicato l'avviso libero professionale per far espletare le funzioni ordinarie relative ai controlli ufficiali negli allevamenti regionali. Secondo i precari, si reclutano medici veterinari con contratti atipici con partita IVA, girando vincoli normativi. Il nostro appello, hanno detto, è caduto nel vuoto. L'avviso pubblico hanno continuato. È scandaloso perché si aggirano appunto i vincoli della legge e si pagano veterinari privati con soldi pubblici per gestire un servizio che prevede il ricorso a contratti donnei dettati da normative di settore specialistica ambulatoriale o contratti a tempo determinato. Un bando pasticciato, hanno rimarcato i precari, composto da un mix di normative che derivano da tipologie contrattuali differenti. Se entro il 31 dicembre non si effettuano i controlli, hanno spiegato, si perde la qualifica sanitaria delle stalle con gravi conseguenze. Ma ora non è detto che vengano comunque conclusi da personale che potrebbe non conoscere il territorio. Si è fatto tutto questo per non stabilizzare né continuare con la specialistica e l'interrogativo, dal sapore amaro, dei precari i quali si sono rivolti a dei legali e per verificare la legittimità dei procedimenti dell'ASREM inoltreranno la documentazione ai sindacati di categoria, ai ministeri della salute, di economia e finanze, all'ANAC e alla Corte dei Conti. Infine l'invito agli ordini professionali dei medici veterinari di Campobasso e Isernia ad attivarsi per salvaguardare l'intera categoria anche perché, hanno concluso, le procedure messe in atto dall'ASREM, oltre ad essere vietate dalle normative di legge, prevedono una retribuzione oraria che lede la dignità professionale. Quindi l'appello al commissario dell'azienda sanitaria a revocare l'avviso pubblico in autotutela, a contrattualizzare i veterinari rispettando le normative di settore e a concludere subito le procedure per stabilizzare chi ne ha diritto per evitare la cronica carenza dei veterinari pubblici. Apriamo la pagina giudiziaria. Soluzione con formula piena per l'ex sindaco di Termoli, Angelo Sbrocca, l'ex dirigente comunale Alfredo Dallatorre, l'ex segretario comunale Vito Tenore, sotto processo per abuso d'ufficio in concorso in seguito alla nomina nel 2014 di Michele Macchiagodena, collaboratore del sindaco. Il PM Ilaria Toncini aveva chiesto una condanna a otto mesi, ma il giudice Rosaria Vecchi ha deciso di assolvere i tre perché il fatto non sussiste. L'indagine era partita dall'esposto di un avversario politico secondo il quale Macchiagodena, non essendo laureato, non avrebbe potuto essere inquadrato nella categoria D e livello economico D1. Nel processo che si è svolto a Larino con rito abbreviato, l'accusa è stata smontata perché il testo unico sugli enti locali contempla la possibilità di nomine come quella effettuata dall'ex sindaco Sbrocca, era difeso dall'avvocato Nicolino Cristofaro, mentre Dallatorre dall'avvocato Oreste Campopiano. Viabilità e collegamenti, buone notizie per la nostra regione. Infatti il presidente della provincia di Sernia, Alfredo Ricci, è stato convocato a Roma al Ministero delle Infrastrutture per discutere del ritorno all'ANAS dell'Istonia e del viadotto Sente. Ci dice tutto Enzo Di Gaetano. Molise e Abruzzo, grosse novità per i collegamenti della nostra regione. Infatti il presidente della provincia, Alfredo Ricci è stato convocato per il 13 novembre al Ministero delle Infrastrutture a Roma per discutere della statalizzazione dell'Istonia e del viadotto Sente. Statalizzazione significa far passare nelle mani dell'ANAS il recupero funzionale di uno dei viadotti più alti e lunghi d'Italia, quello che collega il Molise e l'Abruzzo, chiuso da più di un anno per la rotazione di una delle pile di sostegno della campata del ponte. Se ne è parlato nel circolo di conversazione San Pio di Agnone, che ha ospitato nei giorni scorsi il presidente della provincia di Isernia per un incontro sul tema della viabilità in Alto Molise. Il presidente del circolo, Enzo Carmine Delliquadri, di fronte a un folto e attento pubblico, ha rappresentato al presidente la situazione di drammaticità della viabilità. Mulattiere contro le superstrade a quattro corsie che la regione pensa di progettare. L'incresciosa situazione viene da molto lontano e si è incancrenita negli ultimi tempi, anche per la confusione creatasi circa il ruolo che le province avrebbero dovuto svolgere. Le risposte che ha dato il presidente della provincia, Fredo Ricci, aprono la speranza, almeno, per quello che si può ancora fare. Innanzitutto ha illustrato una serie di interventi previsti che consentiranno all'Alto Molise di fare affidamento sul 65% circa dei finanziamenti previsti dalla provincia. Poi si è entrati a discutere più appropriatamente di due argomenti caldi, la Fondo Valle Verrino, il ponte esente sul primo argomento. La provincia di Isernia farà del tutto perché i lotti programmati vengano realizzati sul Sente. Come è noto, sono stati stanziati circa 2 milioni, ma non è certo che il ponte, dopo la manutenzione, possa essere aperto, in quanto occorrerà verificare se l'intervento sarà stato sufficiente a rendere stabile tutto il sistema. Di fronte a questa situazione di incertezza, il presidente Alfredo Ricci ha dato la sua parola, che si impegnerà al massimo perché tutta l'Istonia, e quindi anche il ponte Sente, venga riportato sotto il controllo la gestione e la manutenzione dell'ANAS, tornando così ad essere una strada statale. E caso ha voluto che proprio a termine dell'incontro è giunta lo stesso Ricci una telefonata con la quale veniva convocato presso il Ministero delle Infrastrutture il prossimo 13 novembre, proprio per discutere della statalizzazione dell'Istonia. Oggi a Campobasso, nel parlamentino di Palazzo Vitale, si è svolta la consultazione pubblica nell'ambito della procedura per l'affidamento del servizio di trasporto extraurbano su gomma. L'avviso pubblico è stato reso noto con determina del direttore di servizio mobilità ed è sull'albo pretorio della regione. L'intento, hanno spiegato il governatore Toma e l'assessore Niro, è quello di stabilire un confronto con chi opera nel trasporto pubblico locale che sia utile alla successiva fase procedurale. Una due giorni internazionale per incoraggiare lo scambio di buone pratiche con particolare riferimento al turismo rurale. È quella svoltasi a Campobasso con la presenza di una delegazione straniera proveniente dai paesi dei Balcani per osservare da vicino esempi esistenti sul territorio molisano in tema di albergo diffuso e agriturismo. C'era per noi ancora Enzo Luongo. La governance multilivello come valore è aggiunto per favorire l'attuazione della strategia della macro-regione adriatico-ionica. Questo è il tema dell'evento internazionale di due giorni che si è tenuto a Campobasso coorganizzato dalla conferenza delle regioni periferiche e marittime e dall'euro-regione adriatico-ionica, partner dell'iniziativa ai-nurec, il network di università-regioni, camere di commercio e città che ha lo scopo di svolgere azioni chiave a supporto della strategia dell'Unione Europea per la macro-regione adriatico-ionica. Obiettivo della due giorni, tenutasi all'Università del Molise, incoraggiare lo scambio di buone pratiche con particolare riferimento al turismo rurale, come spiega Mario Di Lorenzo, direttore del GAL dell'Alto Molise. Oggi è un'occasione importante anche di collaborazione, soprattutto di trasferimento di conoscenze degli strumenti e dei metodi che sono messi in piedi in Molise per quanto riguarda l'approccio leader, il GAL in particolare, perché l'Albania si sta avvicinando, insomma c'è una legge in itinere presso il Parlamento albanese sui GAL e sull'approccio leader, quindi su come attuare e come mettere in piedi delle coalizioni locali di sviluppo e noi abbiamo raccontato oggi con l'esperienza del GAL dell'Alto Molise in particolare questo approccio leader, come ci stiamo comportando, cosa stiamo facendo. Presente una numerosa delegazione proveniente dai Balcani con sindaci e amministratori per osservare da vicino esempi esistenti sul territorio molisano in tema di albergo diffuso e agriturismo. Tra loro Aldrin Dalipi, presidente del Consiglio regionale di Tirana e vicepresidente dell'Euroregione Adriatico Ionica e Andi Seferi, il vice sindaco di Tirana. Qui a Molise abbiamo discusso sulle nostre esperienze sul campo dei governi centrali e governi locali. Siamo stati con un gruppo diciamo grande dall'Albania e Montenegro, sindaci, presidenti di regioni e anche il segretario generale del Ministero di Agricoltura in Albania. Abbiamo puntato un po' sulle nostre esperienze da Molise, da regioni Molise e dai nostri territori. Usciamo con un decreto di collaborazione e scambi di esperienze nel futuro. Tutta la volontà, la nostra volontà, è di lavorare insieme con l'aspirazione dell'Europa, dei progetti europei e di mentalità europei. Abbiamo costruito i ponti tra noi e questi ponti sono così forti che garantiscono nel futuro una collaborazione forte. Sono stati due giorni molto interessanti qui a Molise, a regione di Molise. Tirana fa parte in un metropolio che realmente sta crescendo velocemente. Però gran parte dei superfici sono territori rurali. Quindi anche questi due giorni, anche questa esperienza di collaborazione innanzitutto tra le organizzazioni europee e poi all'interno della governanza albanese sul livello locale e centrale bisogna trovare una sinergia per poter andare avanti. Questa mattina in commissione bilancio e patrimonio al comune di Campobasso l'ex sindaco Antonio Battista a nome dei gruppi del Partito Democratico e della Sinistra ha formulato la proposta di acquisto da parte del comune del Circolo Sannitico recentemente messo in vendita dalla provincia. Il comune e la regione che hanno ottenuto le funzioni sottratte alle province dicono i consiglieri del centro-sinistra in una nota si adoperino per l'acquisto dei locali affinché restino di uso pubblico e destinati a finalità culturali. Sulla vicenda intervengono anche i consiglieri comunali della Lega Alberto Tramontano Alessandro Pascale e Maria Domenica d'Alessandro che chiedono al sindaco Roberto Gravina di mettere in campo tutte le azioni possibili al fine di evitare che i locali del Circolo Sannitico vengano destinati a usi e attività private. La Lega chiede infine che sulla questione venga coinvolto l'intero consiglio comunale. Il vice presidente dell'Aggiunta regionale Vincenzo Cotugno risponde alle polemiche e alla nota del Partito Democratico di Termoli sulla partecipazione alla Expo italiana a Washington. Nessuna azienda del Basso Molise è stata esclusa e i soldi utilizzati sono quelli del Patto per lo sviluppo ha precisato l'assessore che ha invitato i molisani a remare tutti nella stessa direzione. Ce ne parla Manuela Iorio. Ancora strascichi di polemiche sulla partecipazione del Molise all'Expo italiana organizzata dal NIAF a Washington. Il vice presidente dell'Aggiunta regionale Vincenzo Cotugno se la prende con il PD Termolese che nei giorni scorsi aveva avuto da ridire sulla mancata presenza di imprese del Basso Molise tra le 18 che sono volate in America per promuovere il territorio chiedendo anche una rendicontazione delle spese di viaggio sostenute. Sul primo aspetto Cotugno ha ricordato che la regione ha pubblicato un avviso pubblico a cui hanno risposto 30 imprese anche dal Basso Molise. Alcune hanno rinunciato per loro impedimenti e solo 18 hanno confermato la partecipazione. Perché non abbiano aderito imprese del Basso Molise? non mi è dato sapere ma di certo nessuno le ha escluse ha spiegato Cotugno che ha parlato di falsa narrazione anche sui soldi spesi per l'iniziativa 133 mila euro. Questo evento non è stato finanziato con i soldi dei molisani i fondi utilizzati sono quelli del patto per lo sviluppo destinati per legge all'internazionalizzazione e al marketing territoriale e di certo non potevano essere spesi per altre cose ha precisato l'assessore la questione ha tenuto banco anche sui social con quelle che Cotugno ha definito polemiche sterili proprie di un Molise malinconico incline al disprezzo facile al dileggio e alla calugna che si contrappone a un Molise che produce ha affermato Cotugno che si rimbocca le maniche ogni giorno nel tentativo di fare impresa e creare vera occupazione cerchiamo una volta tanto di remare tutti nella stessa direzione ha continuato l'esponente di giunta rimbocchiamoci tutti le maniche e ammettiamo che una speranza esiste che sicuramente questa terra può ancora offrire opportunità serie e vantaggiose per quanti vogliano avviare un'impresa a Washington hanno apprezzato ha concluso Cotugno speriamo che prima o poi anche qui da tutti prevalga l'orgoglio molisano e intanto il centro-sinistra di Termoli con una nuova nota replicato all'assessore Cotugno accusandolo di arrampicarsi sugli specchi con le sue dichiarazioni e ribadendo l'assenza delle imprese del Basso Molise che rappresentano il motore della regione con la presenza al contrario di piccole imprese dell'Isernino alcune anche di recente Costituzione che non crediamo affatto come si legge nel documento abbiano una strategia aziendale delle esportazioni e forse nemmeno la possibilità di farlo ha commentato così il centro-sinistra sul bando pubblico poi il Partito Democratico Termolese ha ricordato che nemmeno alcuni consiglieri regionali di maggioranza ne erano al corrente infine il PD fa notare che l'assessore non ha risposto alla domanda se amministratori dipendenti e collaboratori della regione abbiano pagato il viaggio di tasca propria è stato inaugurato ieri a Isernia il secondo anno accademico della scuola di teologia della diocesi pentra alla cerimonia intervenuto uno dei massimi teologi della chiesa cattolica il vescovo Orazio Francesco Piazza e c'era per noi ancora Enzo di Gaetano tempi abbastanza agitati quelli odierli per la chiesa cattolica e chiaramente anche i cardini ideologici della dottrina devono subire il confronto con le tante diversità emergenti tra le chiese cattoliche delle varie comunità oggi c'è un braccio di ferro abbastanza forte tra le posizioni di due chiese quella nordamericana che invoca una maggiore rigidità dottrinale e quella sudamericana dove spesso i pastori della comunità sono stati protagonisti in prima persona delle battaglie sociali e oggi da sudamerica chiedono addirittura di togliere il vincolo del celibato per i sacerdoti in mezzo a questo fervore di fermenti spesso opposti tra loro Papa Francesco e la sua interpretazione teologica che a modo suo sta tendando di riportare la chiesa più vicina e attenta ai bisogni dei fedeli più deboli con tutto questo dove fare i conti l'insegnamento della dottrina discerne i segni nei tempi ma cosa vuol dire lo abbiamo chiesto a uno dei massimi teologi della chiesa moderna intervenuto a Isernia all'inaugurazione del secondo anno accademico della scuola di formazione teologica della diocesi di Isernia ma sembra un titolo complesso di fatti è quello che ciascuno di noi cerca di comprendere in un contesto di frammentazione di disorientamento la maggior parte delle persone vive una condizione di confusione di fronte alla difficoltà di leggere quello che ci circonda riuscire a creare delle condizioni di lettura e soprattutto la capacità di discernere come dice Papa Francesco saper valutare poi dalle valutazioni le scelte è importante credo che una scuola di teologia debba assolutamente riflettere su questi punti proprio per tracciare sentieri di comprensione della realtà una scuola quella di formazione teologica della cura di Isernia che viaggia col vento in poppa come ci conferma il suo direttore io sono molto contento il terzo anno che inizio come direttore dopo il grande don Claudio Palumbo le iscrizioni sono in aumento e questo non mi fa che essere gioioso quindi sono veramente orgoglioso e questo è il segno che viene seminato al mio paese noi ci scherzavamo prima si dice che il vino buono non cerca la frasca quindi è il voce in voce no il narrare se uno sta bene dice alla scuola di teologia per noi laici si sta bene allora ecco che abbiamo triplicato le iscrizioni e quindi quest'anno toccheremo quasi le 90 unità e quindi c'è da essere contenti una chiesa che si interroga una chiesa che ragiona i preti che hanno dei validi collaboratori istruiti teologicamente parlando sono segni buoni per me festa grande alla RSA di Larino per i cento anni di Angela Tomino la nonna è originaria di Monte Falcone del Sannio ed è conosciuta da sempre come una persona molto umile buona disponibile con tutti auguri dai tre figli dagli ospiti e da tutto il personale della struttura che ha accolto con amore la nuova centenaria tanti cari auguri naturalmente anche da tutti noi di Telemolise siamo in chiusura ma c'è un appello per un cane che è stato trovato a matrice è un bellissimo cucciolo di pitbull di circa nove mesi molto dolce coccolone ha un collare azzurro e purtroppo non è dotato di microchip chiunque lo abbia smarrito o lo voglia adottare può come sempre contattare la nostra redazione termina qui l'ultima edizione del nostro telegiornale vi saluto come sempre ringraziandovi perché scegliete Telemolise buonanotte telegiornale telegiornale telegiornale